Mentre noi andiamo nella settima episodio di Uncharted 2 e il cover e i ladri come sempre sono in giro ruoto e nello scorso episodio arriviamo di qui e praticamente proviamo ad arrivare all'hotel semplicemente per trovare il posto dove Marco l'ho trovato, voglio sciampare bla 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 non mi piace queste possibilità no? no, credo che magari dovremmo incontrare all'hotel in un modo diverso solo evitare questa squadra insieme mi sono scusate, hai un plan per andare con quella granada? sì, lo faccio, andrò in questo modo per riuscire la loro partita non ti vergliate di qualcuno? beh, sono tempi bui praticamente significa che siete nei cassini senza fare troppi giri di parole allora, dobbiamo eliminare di quello con lanciamissili per priorità, ragazzi, perché altrimenti sapete come andrebbe a finire senza tempo lo dico io buttiamo lui su saltiamo qua sopra eliminiamo lui prendiamo il lanciamissili perché sicuramente ci servirà e tanto ecco l'avversità del lanciamissili scelta uno con lo scudo no, 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 no perfetto sicuramente sarebbe reso, regà, eh beh, io me lo sento a pelle quando si prendono ormai seppur stavamo lontani dalla granata me lo sento fidatevi se prego non piarmi ok era abbastanza vicini che si poteva prendere, fidatevi ok allora, vingiamo la gaffa, va perché tanto a quanto pare i missili forse non ci serviranno più spero ok ok allora sono finiti forse non lo so sono finiti no ce n'era un'altra e non l'ho visto da dove sei uscito tu? vabbè chi se ne frega tanto problemi non ce ne sono ad ucciderli ma da dove io vorrei capire da dove spuntano porca trota maledetti ma guardali ma guardali quanti sono ragazzi mamma mia peggio dei funghi e che porca trota maledetti e io sto senza munizioni di nulla praticamente tra un po' prendiamo il fall, va seppure non mi faccio infattire come arma allora, uscite fidatevi la camocchetta no aspettate ma come hanno fatto a lanciare ahhh ok prendiamo le funghi del fall poi il nome di merda è fall in ogni caso ricarica ma l'inizione quanti si vede veramente però e duranno finiremo poi in ogni caso ma vabbè vabbè però non stiamo ancora più di qua eh no continuano essici nemici mamma mia è finita la musica no no c'è la musica di solito quando finisce la musica vuol dire che ha finito il combattimento ma non è questo il caso o forse si o spero perché mi sono un po' rotto le scato all'ammazza gente ok ok pare che sono finiti va bene va bene va bene va bene oh cavolo bene bene oh grande mossa grande mossa questa vabbè la cosa che volevo fa quindi non è che ci vuole un genio troppi troppi per i miei gusti in confronto in confronto quello del primo capitolo era una schiappa rispetto a questo mamma mia ma quanti ne aveva assordati tante carno bello mio che ho già messo sulle scatole no 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 mamma mia però no 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 Ma perchè adesso? Ma forza droga No 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 io li faccio giro ragazzi Mi vado a buttare della grana direttamente in bocca Non me ne frega niente Oh Perché ogni volta ci deve essere qualcosa Che mi hanno avuto un malora Addio Grazie Muori muori maledetto muori Ne ha soldati tanti E anche alcuni specializzati a quel che vedo comunque Non c'è andato leggero Esplodi Perfetto Prendiamo le munizioni ragazzi Che qua La vedo lunga e grigia Veramente molto lunga e grigia Farà Ok Non lo so Non lo so Io non dico che figlia Non parte i ragazzi Qualcosa Perché probabilmente è stufato Sì Penso che questo è il ultimo Sì Questo è un hotel Ora dobbiamo trovare un paio Finalmente Saliamo qui sopra Probabilmente dobbiamo salire qui Sì Visto la scala Fammi spostare Chloé Ah No stava a pensare Che c'era a scurrare noi Sali su Come non da qui Ah Ho capito E' molto ingegnoso E' quello che ho fatto Pure nello scorso episodio Quindi non è offerta A fa chissà che cosa Wow Ok Dondoliamoci E via Entriamo qui Qui non c'è nessuno Per fortuna Va bene E che te pare a te Oh mio dio Cosa sei tu Tu sei veramente grosso Ah era un miniboss Se potrebbe dire Perché miniboss Perché era tosto Più o meno Ah se aveva un fucile a pompa Eeeh Immaginavo Immaginavo Prendiamo un po' di munizioni Ma Se sa mai Ormai Ormai Regà Io non me dovrei aspettare De tutto Va bene Saliamo sembra che il circuit breaker è sul top floor ah e beh certo tanto non lo chiedere Nate per favore già avuto gli incubi lanciati d'uno per queste cose prendi un po' sta pistola grazie no ma come ho fatto allisciarlo no no veramente come ho fatto oh se mi sbaglio un'altra volta ok che figata oh oh che dolore che dolore beh direi che non possiamo sfondarla a pugni giustamente eh però sarebbe stato meglio sfondarla a pugni dettagli eh quanto mi ricorda Crash Bandicoot sta cosa a me tantissimo ok allora non so se dire che ho fatto una gran figata o una stupidaggine comunque alla fine ce l'ho fatta va bene così strano che non ho più trovato trofei collezionabili comunque che palla vabbè chi se ne frega andiamo un attimo giù vediamo cosa troviamo morte morte solo tanta morte tutte queste cose che possono esplodere faccio fuori con un colpo continuiamo a salire qui cosa c'è mio dio quanto ho rischiato oh prendi in posto le munizioni grazie allora di qua possiamo andare dall'altra parte va bene va benissimo direi prima però io vedete cosa c'è qui sopra seppur magari non ci sia nulla eh però fucile a pompa che non mi serve ma ok i dettagli aspettate un attimo a che diavolo serve sta cosa niente ok no pensavo ci fosse qualcosa invece ma vabbè non posso sta a perdere tempo andiamo avanti punto e basta forza qua sicuramente ci saranno altri nemici che non lo sapevo io tira faria la boccetta maledetto perfetto perfetto da oh le munizioni voglio io grazie no non me le voglio non lo da grazie molto molto gentili beh beh era evidente che dobbiamo salire qui sopra va bene oh sta di qua perfetto poi di qua ma è poco ma sicuro che non sono finiti inutile che mi metta sta e risultate che sono finiti non mi sono scordato di te solo che ci sta gente l'unico problema è quello che lo è siamo circondati da nemici a posto ottimo il generatore adesso beh saliamo sopra semplicemente facciamo lo stesso giochetto fa vedere la scala bella la bella gnocca partirà sicuramente una cazzina dopo adesso in questo momento praticamente partirà sicuramente una cazzina no e io speravo che finisse pure il capitolo invece no grazie qui non c'è nulla e quindi cosa dovremmo fare come di qua sì è tutto normale perché qua mi ricordo che parte una scena un elicottero Ah, spiritosa. Spiritoso. Calchiamo sopra la corda! Oh yeah! Stupendo! Ok. E ora? Dammito! Come la piazza dobbiamo arrivare? Oh, Dio, hai già la soluzione, tranquilla. Oh, Dio, fai attento. A meno che non arrivi... Porca trota! Ok, ho avuto, dammi la mano! Just go! Beh, va, io ho detto che è un spettacolare il suo gioco, ragazzi. E non si sventisce mai, che porca trota! Continua così, mate! Bella salvezza di tutti noi! Porca trota, veramente! Ma come non posso... Ma dai, ma come ho fatto a lanciare la granata lì? Ma rega no, questa no, 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 no. Non è possibile. È una presa in giro, non ci credo. No, no, vabbè. Come hanno fatto? Come? Ma dai, ma come vai, è una spara... Ma... Mi venirebbe a far fuori prima l'elicottero, dannazione! No, non mi prende, va bene, va bene, va bene, meglio. Dove? Dove sono? Ok. Per fare la rega, non ti parlo, ma chi se ne frega. Togliti! Eh, purtroppo sarebbe a rogliere subito dai scatoli, dannazione. Ma come fai senza lanciare missili o qualcosa che... Porca trota. Ok. Proviamo a saltare, andiamo avanti. Vediamo se troviamo qualcosa, ragazzi, perché altrimenti è qui. È veramente... Oh! 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 E rimetti, devi caricare sempre nel momento sbagliato, comunque, Nate! Sempre nel momento sbagliato, madonna, ragazzi, il episodio non finisce più. Dammit! Tu muori, per favore, grazie. Aspettiamo che finisci di sparare quel maledetto coso. Sparisci! Ok. Munizioni, munizioni, munizioni. No, come non è l'ascensore? Non è l'ascensore. Bene! Perfetto, grazie. Uno cerca di fare le cose per bene. E gli sparano praticamente contro. Oddio. E adesso? Che stanno facendo? Questo non è bene. Oh, c***o! E qua però ho l'avuto, poco ma sicuro. No, dici! Che toccavi niente! A dire che è tutto normale. We were, we were almost in that! Uh! Wow! Beh no, sta scena, ragazzi, vale tantissimo. È stato bello. Ma anche terribile. E io voglio che finisci questo capitolo subito perché non so da quanto tempo sto registrando. Ah, come on. Ok. Di qua niente per di qua, allora. Ehm... Dai! No, raga, allora. Vi faccio un video qui. Vi ringrazio di aver visto il video. Lasciate un like, un commento. E sempre, se volete, iscrivetevi al canale. Al vostro giorno del tutto. Stay hollow! Ciao!